comunque vi ricordo che siamo in modalità no build e che questo gameplay se a cattone fa l'ultima kill finisce sul canale altrimenti si perderà nell'esilio si va a terra a nuovo tardi so botta dai di me so botta so botta a cattolo so botta sta tranquillo come adesso andiamo a vedere perché ancora state lì crusca non te mette all'ulta sharky non te mette all'ulta facciamo la taglia qui cazzo non te mette all'ulta si mette all'ulta e si mette all'ulta ma cazzo ancora con i scudoni marco c'è una taglia qui davanti eccoli li vedo li vedo io gli sparo lega io gli sparo sono quattro una terra lo sa l'ultimo eccolo eccolo c'ho bot c'ho bot tra quelli senti che cazzo ci fa tu lama spieghi tre lama su un cespuglio ragazzi forse anche quattro qua dietro no non ce la faremo mai ucciderli tutti ragazzi ognuno uno ognuno un lama la guerra dei lama o ea cattone lo sai sono finiti laia potete fa fanno una challenger fanno la sky base fanno la sky base dai u marco che vado a fare la sky base vabbè stiamo in safe dove o la scessa mi è tazzico li vedo li vedo so bot so bot vai ammazzali ammazzali vai che so bot pure questi una terra bene due a terra bene ne vedevo uno qua dietro vai marco è tutto tuo ma non è di marco p vabbè pure questi erano bot e crusca crusca li e qua li e qua li e qua lascia prendi e qua marco sciarchi venite qua marco p parte va là da solo guarda eh guardate guarda se guarda con giù nella valle vedremo sicuro qualche botte che arranca un lama un altro lama marco valla uccidere via 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 adesso 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 un altro lama un altro lama la strage dei lama che cazzo si frega il lama il lama è importante il lama è importante il lama deve capire quello che è chi è che sta a tirare con le granate? ce l'hanno con noi? ci stanno aspettare no, sono due team qua ragazzi quindi, vedete, qua c'è già se sta andando a fare età si ecco, devo beccarlo sul tetto non sta qua su sta sotto, sta sotto qua bravo, l'ha preso uno p è questo qua sotto insomma, Marco P, va bene non stiamo ancora in safe occhio alle bazucate eh, si ma siamo andati troppo online in effetti troppo cattivi non si deve fare così Marco cerca di resistere bravo, resisti coprete Marco piccardo coprete perché ci stanno sparando un po' di troppe persone lo sai? no, ma sono tre team sono, sono un quarto no, io ecco, io rientro appena in safe ora se ce la faccio a salì uno sta da solo, uno sta da solo perché io non ho vinto che si è andata a destra dove? bravo, Marco che è l'ultimo si, va bene così va bene così va bene così va bene grazie grazie